Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Biella, Silvano D'Agostino, ha approvato i progetti per la realizzazione e l'implementazione di sistemi di videosorveglianza presentati da 11 comuni della provincia, nonché da Unione dei Comuni, per l'accesso ai finanziamenti previsti dal decreto adottato dal Ministero dell'Interno. Agli incontri hanno preso parte i vertici provinciali delle forze di polizia, il vice sindaco del Comune di Biella, gli amministratori dei comuni. Le proposte progettuali, che hanno ricevuto parere favorevole, sono state presentate dai comuni di Andorno, Castelletto Cervo, Cavaglià, Coggiola, Masserano, Mongrando, Occhieppe Inferiore, Ternengo, Veglio, Vigliano, Biellese, Zimone, nonché dall'Unione Montana, Valle Elvo. I progetti esaminati ed approvati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza saranno ora trasmessi al Ministero dell'Interno, che li valuterà ai fini della missione al finanziamento. In occasione dell'incontro, il prefetto D'Agostino ha evidenziato come gli impianti di videosorveglianza, finalizzati ad un maggiore controllo del territorio e a innalzare il livello di sicurezza, presentino anche nelle realtà territoriali meno grandi, un valore aggiunto per potenziare un'attività di prevenzione e di contrasto al degrado urbano, oltre a supportare l'attività investigativa delle forze dell'Ordine. Si tratta di strumenti di strategica importanza che consolidano quella positiva sinergia interistituzionale per contrastare la criminalità diffusa e predatoria.